E adesso andiamo a fare il consueto giretto al supermercato. Spero di riuscire ad andare nell'angolo degli orrori dove vendono polmoni, cuore, lingue, occhi. Polmone di vitello. La minza. Il cuore del vitello. Il cuore del vitello. Fibra. Questo latte è buonissimo. Veramente lo consiglio a tutti. La Nutella. Questi sì che sono degni i barattoli di Nutella. Cos'è? Mezzo chilo? Un chilo? Un chilo. Buonissimi i terraluci del mulino bianco. Anche se io ho mangiato sempre i pandistelle. Restano i migliori. Questi sono i migliori di tutto in assoluto a pandistelle. Il gran cereale. Mandorla salata. Crema piccante all'anduia. Questo è piccantissimo. Salsa tartufata assolutamente da assaggiare. Patè di olivetta giasca. Io ci sono stato ad Arma di Taggia. Patè. Patè. Allora. Peroni. Patè. 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 spesa fatta e adesso si va a casa a cucinare